I cavalli sono in partenza, partiti, Nightclerer gradatamente in vantaggio avendo all'interno Chat Noir che gli si propone all'interno ma poi è Nightclerer che passa nei confronti di Chat Noir poi Eldorato in terza posizione con a largo Travedona I cavalli ora si avvicinano all'imbocco della curva di fondo sempre con Nightclerer in vantaggio nei confronti di Chat Noir quindi Eldorato ancora Jungle Junior con all'esterno Simi Valley cavalli ora lungo l'arco della curva con Nightclerer che prosegue in vantaggio Chat Noir in seconda posizione poi Eldorato con vicino Travedona, Simi Valley, Jungle Junior, Bessi Daygriff e di coda Lionized cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con Nightclerer che prosegue in vantaggio tallonato sempre da Chat Noir quindi Travedona, Eldorato, Simi Valley, Jungle Junior per linee interne poi Bessi Daygriff e Lionized siamo a 350 dal palo sta allungando Nightclerer nei confronti di Travedona a centro pista anche Eldorato, Chat Noir che rimane in quota cerca di ingambarsi anche Simi Valley con all'arco Bessi Daygriff siamo nel tratto conclusivo, Nightclerer è sotto l'attacco deciso di Eldorato nel tratto finale Eldorato sta passando ed è Eldorato che si impone davanti a Nightclerer quindi Chat Noir e Simi Valley andiamo a rivedere le immagini di questa quarta corsa di Napoli con Eldorato Gian Pasquale Fois che si impone con il numero 8 dello schieramento quindi Gian Pasquale Fois in sella al numero 8 Eldorato che si impone al posto d'onore il numero 1 di Nightclerer davanti al numero 2 di Chat Noir 8-1-2 il probabile e ufficioso arrivo della quarta corsa di Napoli grazie a tutti grazie a tutti